Miopi e compiacenti, così vengono definiti Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi, rispettivamente ex presidente ed ex direttore generale di Banca Etruria, nelle motivazioni della sentenza di condanna al loro carico per il processo sul crack dell'Istituto di Credito Aretino. La sentenza riguardava il filone d'inchiesta per Banca Rotta ed era stata pronunciata lo scorso 31 gennaio. Le motivazioni sono state depositate durante l'estate. Il GUP Giampiero Borraccia parla di azioni miopi, compiacenti, perseveranti nella Banca Rotta, come riporta il Corriere di Arezzo, che furono intraprese con avventatezza. Milioni di euro che sarebbero stati assegnati senza reali garanzie a persone o imprese che non sarebbero state in grado di restituirli, ma anche investimenti azzardati come il cantiere navale del famoso yacht e le erogazioni alle società di Rigotti. E poi le linee di credito aperte con i soci, nonostante, secondo la sentenza, è il palese conflitto di interessi. Adesso i legali dei due ex vertici di Banca e di Etruria potranno fare appello.